Operazione Anti-Writers nella notte tra sabato e domenica, la stazione ferroviaria di Bassano. L'intervento, operato dagli agenti della Polfer di Castelfranco e del commissariato di Bassano, è arrivato al termine di una serie di controlli e perlustrazioni in atto ormai da settimane e che hanno portato alla denuncia di un 33enne di Cartigliano e di un 23enne di Campo San Piero, trovati ad imbrattare con bombolette spray i vagoni di un treno fermo in stazione. Per loro sono scattate diverse denunce. Comunque sono quelli di danneggiamento aggravato, imbrattamento. Nello corso c'è stato anche un uomo del commissariato, un suo intendente commissariato che ha subito lesioni e resistenza, più reati in ambito ferroviario per essere stati nella notte essersi introdotti in ambienti esclusi a terzi. Al termine dell'operazione sono state sequestrate bombolette, guanti e mascherine, alcuni disegni modello, oltre a telefonini e macchine fotografiche. L'operazione, sottolineano dalla Polfer, accanto alla finalità puramente repressiva, vuole avere anche uno scopo educativo. È giusto sottolineare come l'attività di questi personaggi ponga loro stessi e i terzi, quindi l'ambiente ferroviario, in pericolo. Pericolo a volte anche di vita.